Il museo del vetro Wow, che bella Venezia Ciao compagni Ciao anche voi amici Andiamo a visitare il Murano E poi andiamo a fare un giretto in gondola D'accordo Andiamo a visitare Andiamo a visitare il Murano Andiamo a visitare il Murano Allora, la Copa Barovier Nasce come progetto per l'istituzione di un archivio Per riunire le testimonianze della storia dell'isola Ma rapidamente revolve nella sua forma museale Le sue collezioni Le sue collezioni furono soggette da un riordinamento nel 1932 Con l'aggiunta dei vetri delle collezioni con l'aggiunta dei vetri delle collezioni corverne Allora, la bellezza di Venezia Ce la faremo sicuro Ciao, molto bello Ciao, molto bello Bene Bene, tu hai salutato i tuoi compagni Sì, grazie per la visita Fai come vuoi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti